Buongiorno, la politica italiana in una foto, poi vi dico perché non bisogna votare. Allora, questi due ve li ricordate? Con il decreto Salvini in mano, sicurezza e migrazione, poi quello ha bevuto il mojito. Cioè erano tutti e due ministri, tutti e due vice premier, premier, sottopremier, contropremier. Conte e Salvini, Conte e Salvini. E adesso sono agli antipodi, eh sì, quello sta con la Schlein e quello sta con la Meloni e si insultano. Ma facevano parte dello stesso governo ed erano culo e camicia.